Ciao a tutti ragazzi, qui è Momo Lab Sharing Time e siamo davvero arrivati alla fine. È stato un bellissimo viaggio nel mondo del teatro e vi ringraziamo per essere stati con noi e per averci seguito. Ringraziamo anche il Teatro Momo e il Comune di Venezia. Speriamo di rivederci presto. Ricordate, il teatro non si ferma mai!